Ma un'azienda malfattoria diventa 4.0 quando? Quando tutti gli asset all'interno dell'organizzazione sono connessi. Questo significa che tutti i pezzi di software, hardware e risorse umane sono connessi tra loro e quindi realizzano un ecosistema digitale. Tutti i dati raccolti sono integrati, quindi ho la possibilità di calcolare l'indicatore UE della linea di produzione. Dispongo di informazioni in real time, significa che conosco i miei costi e il fatturato in un specifico momento. Conosco le ragioni perché non sto rispettando ad esempio la mia programmazione. Quando tutti gli stakeholder conoscono lo strutturale del business, oggi un'ottima giornata oppure non lo è, questa ora lavorativa è stata buona oppure non lo è. Grazie. 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 Grazie.